Mi chiamo Alex Persico e sono anche io qui per raccontarvi la mia esperienza a liceo scientifico di Recanati. Parto subito col dire che ovviamente bisogna studiare, bisogna studiare molto in questa scuola, in questo indirizzo, però questo studio non è fino a se stesso ovviamente, perché a me ha permesso di trovare un metodo di studio che è sicuramente fondamentale per affrontare, se si vuole affrontare l'università. Inoltre molti concetti che ho imparato mi sono ritornati utili, sia per quanto riguarda il test d'ingresso all'università, perché frequento la facoltà di design alla Sapienza Roma, ma anche per molti esami, alcuni esami che ho dato. Inoltre per me è una formazione completa, proprio perché, come vi ho detto prima, faccio una facoltà che non è che c'entri così tanto in realtà con lo scientifico, però, appunto, come dicevo prima, ti dà delle basi che ti permettono di andare a fare un po' quello che vuoi. Ti dà veramente moltissimi sbocchi, moltissime opportunità, e quindi io lo consiglio per questo se si vuole avere una formazione completa, anche se comunque ovviamente bisogna essere consci che lo studio sarà abbastanza corposo, ma ovviamente se si studia con costanza si affronta anche con serenità, secondo me. Quindi ecco, questa era la mia esperienza.